Bentornati amici, camerate comunisti in questo nuovissimo video, bentornati compagni e fedeli servitori, bentornati a tutti, allora che dire, le masterclass di Zappa e Capradossi non sono state abbastanza ingegnose per evitare la vittoria Allora, io parterei da un presupposto, sinceramente non me ne vogliono i tifosi del Perugia e tra l'altro faccio i miei complimenti al Perugia perché nonostante le problematiche, nonostante i valori tecnici che sono obiettivamente veramente bassi, veramente bassi, onestamente fatico a pensare e a credere che questa squadra possa salvarsi, dovesse farcela tanto di cappella Però hanno giocato a viso aperto, se la sono giocata ed è stato quindi doppiamente stupido non aver messo l'uvumbo con gli spazi che ci sono stati perché il Perugia pensava giocare su una partita difensivista Invece sarà per il risultato che da subito si è concrotizzato su un 2-0, sarà per diverse coincidenze È stata una partita molto aperta, con degli errori tecnici clamorosi da una parte e dall'altra Con degli spazi e delle praterie enormi e non è bastata la masterclass di Capradossi e Zappare farci perdere perché come dicevo prima, come ha scritto soprattutto qualcuno Serviva un miracolo oggi per non vincere contro il Perugia Cioè io onestamente ragazzi durante la partita al di là del 2-2 ho avuto la sensazione, sarà lo stadio vuoto, sarà quello che vi pare che fosse una partita amatoriale Cioè per livello tecnico, per quello che vi pare, per intensità, per quantità di errori, per un arbitraggio un po' particolare Mi è sembrata veramente una partita storta, cioè una partita di quelle che dici boh ma contro chi sta giocando il Cagliari Cioè con tutto rispetto ripeto e continuo, questo non è una cosa per vantarmi che il mio Cagliari è un aggravante della situazione che stiamo vivendo Arriva la vittoria dopo due mesi, vittoria che serviva ma ripeto, è difficile dire più di questo Cioè è una vittoria importante che se vogliamo uscire dalla visione di il problema del Cagliari sono Giulini e Liverani È una vittoria che ai sensi della stagione, certo, è una vittoria come un'altra, cioè come un'altra, no È una vittoria che è importante, molto importante, come ogni altra vittoria, d'altronde E onestamente io di fare altri commenti nel merito della tecnica, dare grossi meriti a qualcuno, faccio fatica Faccio fatica e devo chiedere scusa sicuramente a Paoletti Io onestamente l'ho anche difeso l'ultima volta, che ha sbagliato il rigore all'ultimo Però oggi è entrato veramente con cattiveria, di testa ne ha prese due, ha fatto due gol Però anche qui ragazzi, cioè ha fatto due gol dove ha colpito completamente da solo Sul primo, sul secondo non ce l'ho neanche ben in mente perché non ho capito neanche come è successo, cosa sia successo Sul suo secondo Il terzo gol del Cagliari è una cappella del portiere Il secondo gol del Cagliari, andatevelo a rivedere, fa ridere C'è poco altro da dire, cioè sono emersi i valori Secondo me è stata una partita che è stata vinta puramente dai valori che c'erano in campo Perché poi il 2-2, parliamoci chiaro, è un risultato che non stava né in cielo né in terra Ora non diciamo perché i liberani, cioè la partita doveva essere chiusa ben prima Non doveva andare sul 2-2 E' stata riaperta da un difensore che voglio vedere oggi quanto prenderà Perché la colpa era di altare, hashtag la colpa era di altare Ad altare sono stati dati dei voti ai sensi di 3, 2 e 4 A oggi voglio vedere a Capradossi Se ad altare per lo stesso errore dai 3, a Capradossi devi dare 3 Perché l'errore di Capradossi, come commentavamo nell'intervallo, è ancora più grave a livello mentale Perché tu come puoi pensare da 30 metri di dare la palla di testa al portiere? Ma anche fosse fortissima, ma come puoi pensarlo? C'è un errore dalla stupidità proprio enorme Dalla stupidità enorme Poi Zappa purtroppo un'altra partita di una pochezza clavorosa Speriamo torni di pardo Ma perché, ripeto, sono arrivato anch'io alla conclusione Che ormai Zappa per ritornare a un giocatore di calcio debba andarsene dal Cagliari Per me rimane un giocatore valido Ma Cagliari farà solo e sempre peggio Oggi una partita al di là del rigore, ma una partita terribile Nel primo, secondo, ha sbagliato tutto Cioè letteralmente tutto quello che poteva sbagliare l'ha sbagliato Oggi Zappa una partita da 4 Anzi, da 3 purtroppo Veramente, sapete, io l'ho sempre difeso Ma è una cosa oscena Una cosa oscena Una cosa veramente, 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 veramente oscena Altro da dire Cioè adesso, sì, come dicevano Nel, sotto, sotto la live Nella live Adesso il social media manager Farà storytelling per Per sei mesi Per questa vittoria Adesso per questa vittoria si abboneranno Dieci sconfitte a Liberani Ripeto, cioè È difficile fare una valutazione Sulla tecnica di questi ragazzi Quest'oggi Obert Lo vedo ancora poco troppo Difensore centrale da difesa 4 Anche al 92esimo Non ti puoi Non puoi far calciare l'attaccante in quel modo Anche se gli sei addosso Lì lo devi limitare Devi fare il difensore che comanda Non puoi stare lì Che aspetti a vedere cosa fa l'attaccante E poi eventualmente metti la gamba Cioè Non è Non è Lo vedo un po' Che ha dei crolli verticali di prestazione Lo dicevo anche su Instagram Prima della partita Barreca è stato tolto dal 57esimo E onestamente Se pareggi 2 a 2 Io La prima sostituzione Non cambierei il terzino Tra l'altro Carboni Non è che abbia fatto proprio tutto benissimo Ma io sono contento se Barreca non gioca Che sia chiaro Però ripeto Una sostituzione che non ho capito Rispetto a quelle che potevano essere fatte Non essendo entrato oggi Né Gaston Né Millico Penso che ormai insomma Entrambi siano veramente A gennaio Possano già essere ceduti Anche Millico Io non so cosa ci faccia ancora qui Onestamente Il tenere fuori Luvumbo per 65 minuti È una cosa da folli Ed è visto Ha fatto a munire due giocatori È un giocatore incredibile Per me è veramente una pazzia Cioè io non metterei nessuno fuori per zitto Luvumbo Falco Sì ha fatto qualcosa di buono Poi però se uno ci pensa Io onestamente Personalmente Non terrei fuori il zitto Luvumbo Se devo mettere Falco Per quello che sta dando Falco adesso Che pur Falco oggi ha giocato bene Secondo me Però anche qua Sull'azione del gol È entrato Poi Nandez Ha dato una grande palla Ecco Parlando di Nandez Nandez un po' meglio del solito Io vorrei che Nandez fosse più leader Nandez non è leader Nandez corre tanto Vabbè anche sul primo gol Il portiere è imbarazzante Io non so chi sia il portiere di Beruggia Ma veramente cambiate portiere Cioè Nandez Al di là delle Uno che si butta sempre Fa ste cose Fa sempre ste scene Con sta gamba Che se la alza Che sembra che c'ha sempre i crampi Sì c'ho i gommini Va bene Che sembra che c'è sempre i crampi Le cose Cioè Ci vuole un po' più di personalità Un po' più di trascinare la squadra Anche qua sul secondo gol Ma il portiere di Beruggia non è uscito Vabbè Poi per carità L'abbiamo vinta Con chiaramente la compartecipazione del portiere Una partita che obiettivamente la vittoria è meritata Non prendiamoci in giro Perché occasione la mano ne ha avute molte di più il Cagliari Però ripeto Mi viene difficile Parlare oltre di questa partita Era una partita importante da vincere Ma per quanto mi riguarda È stata una partita Che al ventesimo poteva essere chiusa Che è stata riaperta da un difensore Che non è un difensore Per un insieme di fattori Però ripeto Visto che piace Ad uno si dava cinque Perché non faceva i passaggi come Ciavi Questo che fa i passaggi come Ciavi A detta di molti Vediamo oggi quanto gli si darà di pagella Quindi queste sono le considerazioni Quest'oggi Bravo Pavoletti Bravo La Padula Devo dire Che oggi hanno giocato bene assieme Però ripeto È difficile Contestualizziamo questa vittoria Siamo veramente di fronte a una squadra Che ha una marea di problemi È una squadra che Per quel che ho visto io Ragazzi non me ne vogliate Tifosi del Perugia Ma è veramente Difficile Poter Poter pensare di Di Ma in tutto Cioè è proprio moscissima Il Perugia Quindi non lo so Mi sento un po' limitato Nelle considerazioni Quest'oggi Ma Cumbo Per quanto mi riguarda oggi Ancora più terribile del solito Ha perso diversi palloni Anche sanguinosi Ballate come al solito E roba di questo tipo E E Boh Andiamo avanti No Non andiamo avanti così Speriamo di vincere col Palermo A sto punto Speriamo di riacciuffare Sta stagione E di mandarla su un binario Adatto Oggi La Padua e Paoletti Si sono trovati Vediamo Vediamo cosa Cosa ci dirà Questa Questa stagione Per ora ci ha detto Veramente Bene Per come abbiamo giocato Perché non dovremmo Avere 22 punti E siamo a pari punti Con l'ottava Che ancora deve giocare Ma Non dovremmo essere lì Vediamo Vediamo come si evolve la situazione Un bacione a tutti Ciao ragazzi Ciao ragazzi